Parliamo di tradimento e nella fattispecie di superamento del tradimento e di qual è il principale limite, il principale errore che si fa nel affrontare un tradimento e quindi potenzialmente nel risolverlo. Mi occupo da anni, come sai, di terapia di coppia, di relazioni sentimentali e inevitabilmente di tradimento e l'interrogarsi su cosa sia meglio fare, è meglio che la coppia rimanga insieme, è meglio che la coppia si lasci, è meglio che lo si comunichi ai figli piuttosto che non lo si faccia, è meglio coinvolgere delle altre persone oppure è meglio mediare per trovare una soluzione. Sono tutti temi sicuramente interessanti e che vanno approfonditi, che vanno valutati situazione specifica, poiché i fattori che determinano un tradimento e ne determinano la possibile risoluzione sono parecchi, su tutti ovviamente la volontà dei due partner. Ciò che però mi trovo spesso ad individuare come situazione sine qua non, cioè una situazione necessaria da dover affrontare ma non sufficiente per permettere la risoluzione del tradimento è il compiere una scelta. Poiché molte volte nel affrontare un tradimento le persone dicono va bene mettiamoci una pietra sopra, facciamo finta che nulla sia successo, ovviamente queste sono delle reazioni ingenue da un punto di vista, istintive dall'altro e che richiamano, richiedono una qualche rassicurazione sul breve periodo. Però poi la coppia si deve trovare e mettere in qualche modo a tavolino e fare i conti con se stessa. Prima di tutto lo devono fare però i due partner. Una volta che i due partner hanno fatto i conti con loro stessi, si trovano a dover esprimere, esplicitare questa scelta nei confronti appunto della coppia e del suo potenziale proseguo, quindi devono riuscire a dirsi con una certa serenità se intendono proseguire e quindi predisporre le risorse necessarie per poterlo fare o se invece preferiscono interrompere la relazione. Ovviamente non è una scelta facile, però il termine scelta, cioè la presa di posizione di fronte ad una situazione del genere è la condizione sine qua non, poiché quello che mi trovo molto spesso ad osservare è che le persone in realtà non scelgono, o meglio non sono entrambi i partner a scegliere ciò che desiderano fare in termini di proseguo della coppia. Ad esempio c'è il traditore che legato al senso di colpo, ad esempio per il gesto compiuto, si fa trascinare nella volontà di proseguire la coppia appunto dal tradito o viceversa ci può essere il di nuovo traditore che decide di rimanere appunto con il partner non perché si sente in colpa ma perché si rende conto di aver commesso un errore e che ciò che realmente vuole è rimanere con il partner ed il partner per mancanza di alternativa, per paura ad esempio delle conseguenze sociali, per paura ad esempio di ciò che potrebbe dire la famiglia, gli amici o per delle difficoltà economiche, sceglie di rimanere appunto insieme a colui che l'ha tradito. Sceglie relativamente, nel senso che di fatto non si chiede neanche che cosa potrebbe fare ma pensa che appunto proseguire nella relazione sia l'unica possibilità. E quindi la scelta, nei due esempi che ti ho fatto, che ovviamente non sono esaustivi di tutto il ventaglio di possibilità, non viene compiuta, non viene compiuta poiché la si dà in un qualche modo per scontata. Questo ovviamente può essere valido anche nel momento in cui le persone decidono di lasciarsi ossia nel momento in cui qualcuno ha sempre professato a se stesso che il tradimento è per lui un qualcosa di insuperabile che quindi mette in atto una reazione di default in un qualche modo che aveva già preparato nella sua testa che nel momento in cui viene tradito consiste appunto nell'interruzione della relazione. Anche in questo caso la scelta però non viene compiuta, o meglio non viene compiuta, non viene ponderata ma viene sostanzialmente agita. Ripeto, non c'è nulla di male nel decidere di rimanere insieme o nel decidere di lasciarsi. Non c'è una risposta, non c'è un giusto o uno sbagliato. La persona, le persone devono scegliere e muoversi come meglio credono. Però, ripeto, devono scegliere. Cioè devono essere sufficientemente lucide da fare i conti con loro stesse e poter mettere in atto una scelta. Scusami. Una scelta consapevole, una scelta esplicita, una scelta che in un qualche modo sancisce un punto di volta nella relazione che c'è stata sino a quel momento e che da lì in poi ci sarà. Le persone devono aver vagliato le diverse possibilità e devono poter aver esplicitato all'altro la loro scelta. Perché questo è il primo passo, soprattutto nel momento in cui entrambi scelgono di rimanere insieme, per poter stare insieme. Se questo non viene compiuto, allora non si potrà avere la possibilità di tornare ad essere felici, poiché la paura, quindi la paura in termini di minaccia, di mancanza, di perdita, sarà tale da impedirci la ricostruzione della relazione. Ovviamente rimanere insieme per paura risulta essere uno dei vincoli più gravi e prognosticamente più limitanti della buona riuscita di una terapia o di un'elaborazione all'interno della coppia per superare un tradimento. Per stare insieme o per lasciarsi a seguito di un tradimento è necessario scegliere. È necessario scegliere prima individualmente e successivamente comunicare questa scelta all'interno della coppia e solo lì, nel momento in cui si è trovato l'accordo o il disaccordo, nel momento in cui si sceglie appunto di lasciarsi, lavorare per compiere quello che si è scelto, di lavorare per andare a costruire il prossimo futuro.